Ciao a tutti ragazzi, sono iPhone Amatore e benvenuti a tutti quanti in questo nuovo episodio della serie Indovina Kit. Ok, parla tu Edo, presentati. Vabbè sì, io sono il solito che sto qui a fare video con questo stronzo. Vabbè questa è una puntata di kit scelti da voi, il vincitore della scorsa puntata era? Chi era? Cazzo, non ne ho trovato. Allora, non mi ricordo il tuo nome, ma... Porca troia, come si chiamava? La professionalità di quest'uomo. Sì, sì. Allora, ti invierò un messaggio privato e il link è in descrizione. No, il link in descrizione non te lo metto perché tu hai scelto i coin. Quindi se mi incontri in game, dopo che ti invio il messaggio privato, dimmelo, sono il vincitore e io ti invio i coin. Ora, non è che voi tutti quanti mi inviate il messaggio privato, ho scritto solo il vincitore. Tu è minimo, lo nomino la prossima puntata. Sì, lo nomino la prossima puntata, però non si deve da troppe aria perché c'è tanto. Arieccaci qua, regà. Non è successo niente, voi non avete visto niente. Mi ero scordato solo di scegliere il kit, che voi se non sceglievo il kit manco sapevate che kit mettevo, però vabbè. Per partecipare a questa puntata dovete commentare qui sotto con il kit che pensate che io sto scegliendo e anche Edo questa volta sta scegliendo. Poi dovete scrivere il vostro nome di Minecraft e il vostro premio, quindi se volete la sponsorizzazione o i 15 coin quando vi vedo in game. Io non so perché sto a nade sotto, però vabbè. Ma dosan frattamo? Ecco te, fermati. Ti vedo. Tu, ma come vedi che tu parti, vabbè. Io sì, io... Tu parti. Allora, dove stai? Ok, via qua. Ti seguo. Via qua, via qua. Ragazzi, comunque appunto il vincitore lo scelgo nel prossimo video. Guarda come saltella. Sì, saltello proprio. Oh, grandissimo, qua sotto è una cosa fighissima. In realtà lui è un fenicottero. Io sono un cazzo di fenicottero. Più figo dei fenicotteri veri. Eh, bello qua dentro. Via qua. A voglia, eccomi. Perfetto. Per il nostro kit abbiamo bisogno di queste cose che sto sprecando proprio alla grande. Ok, intira adesso l'acqua, non dovrebbe starci più. Sono gli spasmedi. Perfetto. Guarda che t'ho creato. Attappa, via qua, attappa, attappa. Che attappo io? Via qua, se no te vedono! Ma che me vedono? Te vedono! Ma te che? Ma che tu cazzo li stai a mettere queste cose? Li rimetta uno di distanza. Allora ragazzi, questo qua come potete vedere... Eh, voglio di me via più. Ma non si commetti che viene qualcuno e ci fa il culo, guarda eh. Con questo kit possiamo magichellare. Ma che schifo di cosa che mi è uscita. Si dice magichellare? Io ancora non mi sono messo i cosi. Le lincianti. Possiamo potenziare le nostre armi. Quindi, vedete voi un kit che potrebbe potenziare le vostre armi e sceditemelo nei commenti. Eh, vabbè. Metti giù la tua lontano dai librerie. Che voglio... Mi hai inculato alcuni cosi degli enchant. Eh? Mi hai inculato alcuni... Oh che figo! Che ti è uscito? Contracolpo 1, fragello degli artropodi... Degli artropodi 3. Saccheggio 1 e aspetto di fuoco. Oh oh! Che culo! Adesso vediamo su quest'altra. Perché mi si è ballato tutto? Fragello degli artropodi. E io lago. Non riesco a mangiare. Non riesci a mangiare? Sì, ora sì. Mangia, uomo, mangia! Ma tu cazzo l'hai messo i libri qua sopra? Eh? Hai messo i libri qua sopra i libri. Eh sì, tu lo facevo a tappare. Allora, qui mi sto facendo la mia bellissima casetta. Ahah. Questo in realtà non è un Hunger Games, ma un let's play. Guardate che cosa succede adesso. Oh. Volevo incontrare. Vedi quello che poi fa. Tu già laghi il tuo. Un po' io ti lancio pure così. Eh, vabbè. E quindi, vabbè. Che famo? Decidiamo di uscire? Oppure... ...fammo le d'alpe qua sotto? Aspettiamo che la gente si ammazza e poi ciò. Aspettati. Ma che cazzo è? Scusa. X. Eh, ok. Quindi to... Cos'altro? Oh, a 14 c'è se sta uno qua sopra. Davvero? Eccolo. Ammazzamolo. Ammazzamolo, tanto ci sta solo lui. Andiamo gli affar... Andiamo gli affar... Andiamo gli affar con questo pezzo. Bene. Dove sta? Bello, bello di casa. Via qua. Oddio. L'agri stifoso. Fu io. Vero. Perché ti sento tipo robotizzato alla grande? Io... Boh. Eccolo. Via, non amo, via, via. Se c'è via so cazzo. Sì. Mo' casco. No, mo' casco. No, so cascato. So ricascato dentro il buco. Perfetto. Oh, oh, dove cazzo? No, vai. Lo stai. Perfetto, sono troppi, sono troppi, sono troppi. Devi vieni qua. Sei scomparso. Non è che sono scomparso, sono troppi qui. Qui sto santo. Dove, qui? Ma non mi vedi? Girati! Ah. C'è pieno di gente, lui, tranquillo. Matteo Fire 999. Moro, Matteo Fire è morto. Ma io ci vado contro a tutti quanti e poi non moro. Cioè, morono a causa degli altri. Dove andando? Ma c'ha la cibo, fammi un po' vedere. No, aspetta, aspetta. Qua c'è stata qualcosa. Eccolo. Oh, questo qua c'è qualcosa. Edo, attento. Edo. Eccomi. Cristo santo. Eh, mori. Perché non lo prendo? Ma tu, oddio, ti sto a colpire a te. Tu che inciente c'hai? Ti ammazzava a mia, ti mi ammazzia a me. C'ho il contraccolpo 2. Ma verso l'acqua, trocio. Sì, guarda che perché si spegne subito sta merda? Senti, su... Che lasci? Caga smeraggi. Casetti, cacone di smer... Oh, ma che cazzo fa? Via qua. Edo, quanto cazzo vai ogni volta? E' sto dietro. Ma guarda la gente che ci sta. Io moro. Tra un secondo moro. Sì, eh. Perché vai a attaccare gli altri se sta a morire questo qua? Oh, non mi dia il colpi a me Cristo. Non t'ho colpito io. No, contro il colpo, ma... Oh, è morto. Vado via. Buon mazzo, sartro. Quanto cazzo è andato? Sì. Oddio, questo qua è coso? È terrorist Cristo? Scappo. Ah, che culo? È il terrorist buggato, quindi non gli esplode la roba. Ma c'è un niente diamante io. Ma chi te la dà, scusa me? È la droppa di quello. Sì, certo. La gente ti dà le cose così. Ma questo mi segue con l'arco. Aspetta, aspetta. Ma vengo io a Will. Ma hai rotto un po' il cazzo. Eh, ma mi hai rotto un po' il cazzo. Oh, mortacci. Oh, 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 riportami a casa, riportami a casa. Che porti? Cristo, santo! Questo mi ha messo a romperculo con l'arco. Ma dove stai, Davino? Tu non stai dove sto io? Sto a uccidere Fede, io. Che cazzo è Fede? È uno stronzo. Ma tu non stai vicino a me? No. Ma chi è che ha ammazzato la pecora qua? Non io. No, raga, qualcuno ha ammazzato una pecora e non l'ho visto. Ha ucciso. Come, sei morto? Eh. Un po' di vinci, porco. Un po' di struttura. Cerca di trovare la roba mia. È bello che pure un iscritto mio. Mamma mia, te chillo. Te chillo, Fede. Te chillo. Sì, ma Fede 28. Sì, sì. È iscritto mio. Eh, l'avevo quasi ammazzato, solo che... Sì, quasi ammazzato. Sto colpito qua. Stai zitto. Allora, quantano in diamante? Vabbè, ora non la posso per ricominciare. No, no. E ora c'è pure quest'altro rompicoglioli che mi sta ammazzare. Vinci per me. Però là ancora caga smeraldi. Ancora l'è morto quello. No, cioè, è un altro. Solo caga smeraldi. È la mania. La mania di caga smeraldi. Dove sta, brighi, brighi? Mori? Madonna, come largano la gente. Sia la gente sia i server. Mori. 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 È Cristo del Dio, mori? Oh, porca puttana, oh. Se te vi ho... Te sdrumo. Cioè, FD28 l'ho rincontrato nell'altro server. Ancora. Mi ha chiesto che spada avevamo. Tutti quelli lì. È perché io l'ho fatto infuogare. Oh, io non lo prendo a questo qua. Non so che poteri c'hai. Oh. Madonna mia, sono sicuro. Mori. Mamma mia. E quando uno ti rompe i coglioni, no? Mo ce l'ho dato contro e io la do da fuoco. No, ma ce l'ho fatto. Che, Godo. Mori. Sì, sei morto. Quanti siete rimasti? Sei. No, raga, sta rischiando di vincere là. Bufate. No, no. Che caso iafa. Non vincere la partita al 15-18. No, no. Dov'è questo? Qualc'è questo qua? Qua sotto? Eh, non dovete coprire il teledetto. Oh, il cavolo di lui. Oddio. Dimmi. Niente. Tu non sei Dio. Sì, che so. Oh, oh, oh. Ma che cazzo? Ma che cazzo vuoi? Ma vaffanculo. Sei morto? Sì. Ma perché moro sempre, raga? I maghi. Mi chiede questa cosa perché? La spada è inciantata, tutto quanto. Vabbè. E tu usciti peggio dei grilli. Allora, ragazzi. La puntata finisce qui. Commentate qui sotto con il kit. Che ormai penso che sapete tutti quanti che cazzo di kit era. C'è un uovo. Dove resta l'uovo? Io non ho l'uovo. Ok. Che schifo. Dai. Vabbè, il saluto finale si può fare, no? Ragazzi. Mettete mi piace perché a 50 mi piace si sarà la nuova puntata. E quindi, cliccate mi piace e commentate con il kit che pensate che io abbia scelto. Il vincitore lo contatto personalmente per i 15 coin. Un saluto a tutti da iPhone Amatore. E ci vediamo alla prossima puntata. Saluta, Edu. Ciao. No, solo io posso fare così, no. Oddio, non vedo più lo schermo da quanti spudici ho fatto. Ciao a tutti. Saluta. Ciao. L'entusiasmo di 2.0 questa. Stavo scrivendo. Ciao, raga. Ciao, ciao a tutti. Ciao, raga. Bella, raga. Ciao, raga.